ciao ragazzi amici della grande neve ciao a tutti sono valere malfatto di jam session e sono alle desalpe per la nostra stagione jam session di sci estivo e volevo salutarvi e informarvi che c'è una condizione di ghiacciare veramente stupenda quest'anno ancora più degli altri sono tantissimi ciclo di allenamento tanti spazi anche per il campo libero si scia attualmente da 3006 a 2006 addirittura mille metri di dislivello godibilissimi con tanti spazi e noi saremo qui fino al 29 agosto con i nostri corsi full immersion e poi nel periodo a cavallo tra giugno e luglio saremo poi anche a cervinia abbiamo fatto tre sessioni per cervinia da mercoledì a domenica dal 23 al 27 giugno dal 4 al scusate dal 7 all 11 luglio e dal 21 al 25 luglio tutte sessioni di quattro giorni dedicati alla conduzione al cortoraggio alla coordinazione alle destrezza per sciatori dal livello medio in su via le desalti invece ci possiamo dedicare anche a tutti i livelli essendo sempre sempre presenti qui sulla sulla stazione anche nella nostra struttura alberghiera all'hotel johnson intanto qui stiamo pensando alla alla scaletta di argomenti da proporre poi con i checkpoint del prossimo inverno e intanto speriamo durante l'estate di vedervi numerosi qui a godervi un po di sci venire via dal dal caldo di fondo valle e del mare e trovare il fresco questa mattina eravamo meno uno alle sette adesso c'è un freschetto gradevolissimo ciao a tutti ciao ancora e alla prossima